Un saluto a tutti. Allora, nei filmati precedenti, di cui adesso alleghiamo qua il link, ci siamo occupati dell'impianto di condizionamento dell'aria di un piccolo edificio, come esempio. Il piccolo edificio è quello che vedete, ed è un edificio per uffici. Abbiamo questi quattro uffici, una zona di attesa, questa azzurra, e una zona di servizi. La volta scorsa, nei due filmati di cui vi ho legato il link, abbiamo realizzato l'impianto meccanico di condizionamento dell'aria. Questa volta concentreremo la nostra attenzione, invece, sull'impianto idraulico della zona dei servizi. Molte procedure sono simili a quelle già viste per l'impianto di climatazione dell'aria. Per questo vi consiglio di andare a vedere i due filmati, prima parte e seconda parte, della trattazione dell'impianto di climatizzazione dell'aria. Allora, i servizi, come vedete, vediamo qua in piantina. Abbiamo inserito nella zona, in questa prima stanza, quattro lavamani e poi due impianti igienici uguali. Negli impianti igienici abbiamo inserito un ulteriore lavamani, un bidet e un WC. Noi vediamo tre colori, vedete, sono tre colori. Abbiamo il verde, vediamolo in 3D, che è meglio. Abbiamo il verde, l'impianto di acqua e reflue. Poi abbiamo in azzurro l'acqua fredda sanitaria. In rosso l'acqua calda sanitaria. Prima di iniziare il progetto del Palazzo per Uffici, però, dedichiamoci a un esempio molto più semplice. Così possiamo impostare un pochettino alcuni discorsi che poi applicheremo durante il progetto. È una semplice stanza da bagno con tre elementi per inserire i WC e una parte per inserire i lavabbi. Qui la vediamo in 2D, la vediamo in 3D. Questo è un file architettonico. Salviamo questo file architettonico con bagno ARC e per adesso lo chiudiamo. Chiudiamo questo file architettonico e invece apriamo un file di tipo idraulico, appunto, e creiamo un collegamento col file appena creato. Allora, andiamo a nuovo collegamento. Andiamo a creare il collegamento, appunto, con bagno ARC che abbiamo creato poco fa. Ecco che a questo punto noi ci troviamo, io ho già le sezioni in questi due muri, perché me le trovavo e che l'avevo già fatto, ma eventualmente si possono sempre spostare o aggiungere o togliere. Allora, qual è? Cominciamo ad inserire inizialmente gli elementi idraulici, i WC e i lavandini. Allora, andiamo noi in Sistemi, Idraulica, Apparecchio idraulico. Allora, qua bisogna fare un discorso importante. Adesso lo facciamo, inseriamo prima questi elementi, li inseriamo in posizione all'interno dei loro alloggiamenti e poi andiamo a inserire un modello idraulico, il lavandino, che qui è chiamato gabinetto, nella libreria, vabbè, ma è un lavandino. Allora, inseriamo questo lavandino, inseriamo due, uno in questa posizione e uno in questa posizione. Dobbiamo fare una precisazione. Andiamo nell'immagine anche 3D. Quello che è necessario, naturalmente adesso noi vediamo il file architettonico, siccome è collegato, lo vediamo, diciamo, non grigetto chiaro, perché noi ci serve solo come riferimento. Vi rimando sempre ai primi due filmati sul condizionamento dell'aria, dove si spiega meglio questo discorso del collegamento di Reddit. Allora, cosa vediamo? Se noi selezioniamo un elemento, vediamo che questo elemento ha i connettori. Nella fattispecie, il VC ha un collettore di acqua refle di scarico di 100 mm di diametro e un collettore che porta l'acqua alla, diciamo, alla cassetta per lo scarico di 15 cm di diametro. Cosa è importante stabilire in questo momento? Se io, per esempio, adesso inserissi un elemento, un VC che io qua l'ho scelto apposta di questo tipo. Ecco, questo VC, che è un elemento architettonico, vedete, non ha i connettori. Non avendo i connettori, questo elemento non può essere utilizzato per creare un sistema, per creare appunto un impianto. Dove li troviamo questi elementi? Li troviamo quando noi andiamo in inserisci, inserisci carica famiglia, andiamo indietro. Allora, nelle librerie, appunto, vedete c'è la libreria italiano e italiano international. Se noi andiamo nella libreria italiana e andiamo, per esempio, in idraulico, abbiamo solo la scheda con gli elementi architettonici che contengono, come dicevo prima, questi arredi che non hanno i connettori. Allora, noi dobbiamo andare per trovare i connettori nella libreria italiana international. In questa libreria, se torniamo anche qua in idraulico, vedete, abbiamo l'architettonica e il map. All'interno della scheda map abbiamo dispositivi, eccetera, ma tutti questi elementi che stanno qui all'interno hanno appunto i connettori, come si diceva prima. Iniziamo adesso a creare appunto l'impianto per questi elementi che abbiamo inserito. In realtà, le reti saranno tre, saranno le reti di acqua fredda, le reti di acqua calda, sanitaria fredda, sanitaria calda e le acqua refl, appunto lo scarico. Ci sono vari modi, ci sono dei modi automatici di creare un layout, appunto uno schema di impianto. C'è un modo manuale e poi in realtà c'è un modo misto, ossia anche se si crea in modo automatico poi manualmente si può sempre intervenire. Iniziamo per farvi vedere qual è una metodologia in automatico. Allora, basta selezionare uno di questi elementi e mi propongo adesso di creare il layout, ossia lo schema dell'impianto di acqua sanitaria fredda. aggiungo tutti gli elementi che sono presenti e dove c'è qui tubazioni vado a scegliere non acqua refl, ma vado a scegliere acqua fredda sanitaria. Gli dico ok. Una volta che gli ho detto ok, vedete lui ha inserito tutti questi elementi nello stesso impianto, vado a cercare qui general layout, clicco su general layout e mi si apre questa finestra. Attenzione a questa finestra perché è molto importante. Anzitutto andiamo a vedere quelle che sono le impostazioni. Allora, le impostazioni mi danno l'altezza dei tubi perché vedete lui ha già creato uno schema, un layout delle tubazioni. L'offset è importante perché in questo caso io ho dato meno 100 significa 10 cm più basso del pavimento perché volevo che queste tubazioni andavano a passare sotto il pavimento, ma se qua io per esempio invece di meno 100 davo 2.800 sia alla rete principale sia al ramo 2.800 per esempio e faccio ok vedete lui mette questo impianto lo mette nel controsoffitto. Rimettiamo le cose come stavano e facciamo meno 100 sia per il ramo che per il principale ok e poi abbiamo anche un'altra possibilità in questo caso mi dà due due tipi di di schema appunto di impianto allora questo io preferisco questo perché è quello che sta dentro la muratura posso vederlo anche impianta vedete è il classico impianto che sta dentro il muro che gira da questa parte e da quest'altra parte qui abbiamo anche il tipo che possiamo scegliere rete, pavimento, intersezione io lascio rete a questo punto torno in 3D e faccio ok ecco che lui mi ha realizzato già in maniera automatica l'impianto appunto che io che io intendevo realizzare in realtà lui ha collegato tutte le cassette adesso giriamo intorno così lo vediamo ha collegato tutte le cassette fra di loro vedete e contemporaneamente ha collegato appunto con l'acqua fredda anche i due i due rubinetti di acqua fredda i due rubinetti di acqua fredda appunto dei due lavabbi che vediamo presenti e naturalmente io posso fare lo stesso lavoro anche in manuale e torno indietro ecco torno indietro e mi predispongo per fare lo stesso lavoro in manuale vediamo allora adesso di realizzare manualmente l'impianto di acqua fredda allora andiamo lavoriamo nella sezione perché anche lavorando nelle sezioni servono anche per lavorare non solo per vedere perché il piano aprendo appunto la sezione vai a vista noi possiamo utilizzare la sezione come piano di lavoro allora supponiamo che l'acqua fredda venga dall'esterno supponiamo che scegliamo il tubo tubazione scegliamo una tubazione di 15 e acqua fredda sanitaria perfetto allora supponiamo che questa acqua venga dall'esterno e venga a questa altezza togliamo la pendenza perché non c'è bisogno della pendenza per questo tubo allora entriamo il tubo in questa posizione saliamo fino a circa 60 centimetri e portiamo questo tubo circa in questa posizione andiamo in 3D e vediamo che cosa è successo in realtà abbiamo portato appunto questo tubo all'interno del muro l'abbiamo portato fino a questa posizione adesso dobbiamo girarlo nel muro dietro ai ai lavelli per fare questo andiamo nella sezione numero 2 ecco qua la sezione numero 2 abbiamo questo tubo che arriva qui e non facciamo altro che selezionare questo tubo questo modo no selezioniamo questo tubo abbiamo io non crea simile e portiamo il tubo da questa posizione lo portiamo in questa posizione qui più o meno al centro da questa parte ok andiamo in 3D andiamo a vedere quest'angolo che non è un angolo chiuso per cui chiudiamo quest'angolo lo chiudiamo esattamente utilizzando il comando riduce di estendi ad angolo selezioniamo il primo tubo selezioniamo il secondo ecco che abbiamo chiuso questa tubazione a questo punto non dobbiamo far altro che collegare i vari elementi a questa rete che abbiamo realizzato allora andiamo in modifica selezioniamo il primo WC e diciamo collegati a che cosa relativamente al tubo di acqua fredda sanitaria lo colleghiamo in questa maniera in automatico vedete possiamo collegare il tubo sempre all'acqua fredda e così anche per il successivo stessa cosa possiamo fare per i due nostri lavabbi per cui al solito andiamo a cliccare prima sul secondo lavabo e diciamo collega l'acqua fredda sanitaria vedete nei lavabbi abbiamo tre possibilità perché abbiamo tre uscite abbiamo le reflui la fredda sanitaria e la calda sanitaria noi diciamo che la fredda sanitaria deve essere collegata in questo tubo stessa cosa da questa parte collega fredda sanitaria a questo tubo ecco in questo modo abbiamo visto sia il metodo automatico sia il metodo manuale adesso andiamo a vedere come anche per le acque e le reflui sanitari si può usare il metodo automatico e il metodo manuale andiamo indietro per togliere questi tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda lavoriamo solamente sui tubi del refluo delle acque reflue ecco qua allora se noi vogliamo creare le acque reflue in maniera automatica dobbiamo procedere esattamente come abbiamo fatto prima selezioniamo il primo elemento e andiamo intubazioni no scusate dobbiamo selezionare insieme allora selezioniamo il primo selezioniamo il secondo il terzo il quarto e il quinto andiamo intubazioni acqua e reflui perfetto ok a questo punto possiamo generare un layout allora dunque la prima cosa che dobbiamo come dicevo prima dobbiamo andare alle impostazioni le acque reflue non saranno se le tubazioni delle acque reflue non saranno sicuramente a zero di offset ma saranno a 50 cm sotto il pavimento supponiamo per cui scriviamo meno 500 ho sbagliato meno 500 sia per il principale che per il ramo meno 500 ok ho visto che si è abbassato e anche qua possiamo scegliere le varie possibilità questa non mi piace perché il tubo viene troppo lontano dal muro ecco questa potrebbe anche andare diciamo ok dobbiamo inserire la pendenza dell'1% in questo caso e facciamo ok e possono nell'automatico possono succedere queste cose per esempio qua dice l'elemento contiene una connessione aperta perché ora lo vediamo in realtà vedete c'è questo tipo di di giunzione che è troppo vicino all'altra giunzione per cui non riesce a fare questa giunzione e questo discorso si potrebbe fare smontando manualmente spostando oppure andiamo indietro e proviamo un altro layout per cui andiamo indietro perfetto rifacciamo la stessa operazione selezioniamo gli elementi che vogliamo unire generiamo layout acqua fredda sanitaria no acqua e reflue ok e andiamo a scegliere un altro tipo ecco questo non andava bene potremmo provare con questo vediamo se questo qui funziona le impostazioni sono ecco le dobbiamo ridare perché andando indietro l'abbiamo persa è meno 500 e il ramo è meno 500 anche qua ok vediamo che si abbassa il tutto ecco facciamo ok andiamo alla pendenza che non abbiamo dato e facciamo ok anche qui c'è lo stesso problema vedete perché in realtà dovremmo spostare questa giunzione in un altro modo per cui si deve in ogni caso intervenire manualmente tra l'altro questo tipo di suddivisione non ci garantisce l'uscita poi verso la fognatura o quantomeno ci rende poi più difficile il discorso per cui in realtà io sono più propenso per farle manualmente queste cose come faremo adesso allora ci avventuriamo in una realizzazione appunto dell'acqua di scarico manuale andiamo nella piantina immaginiamo di fare un tubo che passa sotto questo muro e scarica da questa parte allora andiamo in questa sezione vai a vista naturalmente questo tubo noi lo dobbiamo fare sotto il pavimento facciamo un 50 cm sotto il pavimento per cui andiamo in sistemi poi andiamo in tubazioni e scegliamo una tubazione di 100 millimetri perché è quella dello scarico dei gabinetti dei WC e acquereflue già siamo in acquereflue e la pendenza il come si chiama qua l'un per cento perfetto allora andiamo più o meno andiamo in questa posizione qui e andiamo verso l'esterno portiamo questo tubo verso l'esterno ecco qua ci stacchiamo di qui andiamo in 3D in realtà abbiamo fatto questo nostro tubo che passa appunto in questa posizione allora selezioniamo il primo WC e diciamo al primo WC devi collegarti naturalmente specificando le acque reflue a questo tubo il secondo WC gli diciamo devi collegarti sempre delle acque reflue a questo tubo così per il terzo WC devi collegarti a questo tubo d'accordo allora adesso dobbiamo realizzare i due scarichi da questa parte allora vediamo il livello di questo tubo qual è in realtà il livello di questo tubo è circa meno 500 sottoterra per cui cambiamo la nostra sezione andiamo nella sezione 2 che sarebbe questa qua e creiamo un tubo sempre sottoterra però questa volta lo creiamo di 32 perché mi sembra che esatto è 32 l'ampiezza del tubo di scarico dei due lavandini per cui possiamo farlo anche in pianta e gli diciamo allora tubazione tubazione andiamo su una quota di meno 500 e un diametro di 32 naturalmente sono acquerefoli ci siamo anche qui diamo un minimo dipendenza e andiamo da questa parte verso l'esterno ecco qua questa parte verso l'esterno andiamo in 3d per vedere se non abbiamo fatto delle sciocchezze e adesso andiamo a collegare andiamo a collegare il nostro il nostro primo lavabo lo colleghiamo sempre in relazione alle acque reflui lo colleghiamo con questa rete stessa cosa per il secondo lavabo sempre per acque reflui lo colleghiamo a questo benissimo dobbiamo unire adesso la tubazione questa più sottile di 32 con la tubazione di 100 e dobbiamo unire queste due adesso però se noi andiamo a vedere le altezze di questo vediamo che il tubo è troppo alto rispetto a quest'altro tubo per cui non dobbiamo far altro che portare questo tubo ad una quota più bassa proviamo meno 520 e a questo punto possiamo tentare di unire questi due tubi portando questo punto esattamente da questa parte bene possiamo ora dedicarci alla progettazione dell'impianto idrico della zona servizi zona servizi che è divisa appunto in tre vani un antibagno due wc e un cavedio per inserire servizi e poter ispezionare questi servizi vi faccio vedere adesso l'impianto finito vedete questo qui è il cavedio il cavedio ha la possibilità c'è una una porticina per poter intervenire sulla manutenzione sul diciamo il controllo di questi elementi e abbiamo anche qui all'esterno creato un tombino per poter appunto scaricare l'acqua diciamo di allontanamento e invece poter le acque reflui come dicevo prima e questo qui invece è il tubo che porta l'acqua fredda sanitaria all'interno dell'edificio andiamo a vedere in 3D ecco in 3D la nostra idea appunto è quella di realizzare l'acqua fredda sanitaria che entra sale e serve i 4 lavandini poi si creano due condotti per 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 andare a servire appunto i lavandini interni ai ai vici e i due bidet e i due vici l'acqua calda abbiamo abbiamo inserito diciamo uno scaldabagno senza serbatoio che serve l'acqua calda solo per i lavandini e poi c'è diciamo l'impianto di acqua reflui che funziona in questo modo bene iniziamo allora a creare questo impianto anzitutto vediamo le caratteristiche degli elementi che abbiamo inserito abbiamo inserito 4 lavandini nell'antibagno e poi all'interno di ogni vici abbiamo inserito un lavandino un bidet e un vici ognuno di questi elementi vediamo per esempio il vici il vici ha un diciamo un ingresso dell'acqua da 25 mm e uno scarico da 80 mm così anche il il bidet ha uno scarico da 32 e un ingresso da 15 mentre i nostri lavandini hanno uno scarico di 40 e due ingressi da 15 l'acqua calda e da 15 l'acqua fredda va bene allora iniziamo a iniziamo direttamente con andiamo in pianta iniziamo con l'ingresso dell'acqua fredda dall'esterno allora l'ingresso dell'acqua fredda dall'esterno vediamo che pensiamo che questo tubo lo mettiamo a 20 cm sotto il livello anzi a 10 cm sotto il livello del solaio allora andiamo in sistemi tubazioni e andiamo a scegliere il il diametro abbiamo detto che scegliamo un diametro da un diametro da 25 mm per cui andiamo in questa parte scegliamo il diametro da 25 cm acqua fredda sanitaria e ci siamo dobbiamo dare solo la quota altimetrica e gli diciamo che è a meno 100 e cominciamo a tracciare questo tubo che va da questa parte esattamente va a finire in questo punto controlliamo sempre in 3D se è quello che stiamo facendo è giusto è esattamente quello che volevamo vedete sotto il livello del pavimento e arriva direttamente nella parte posteriore del muro andiamo adesso nella sezione questa qua per creare per poter alzare questo tubo all'interno del muro e portarlo alla quota che a noi serve allora andiamo vai a vista ecco che abbiamo noi questo bellissimo tubo che dobbiamo portarlo più o meno a questa altezza allora selezioniamo il tubo disegna tubazione e andiamo fino a un'altezza che è circa questa qua e poi portiamo questo tubo lo portiamo in questa posizione ok noi questo tubo però ci serve anche dall'altra parte allora non facciamo altro che selezionare selezioniamo questa aggiunzione che è un segno più diciamo più e selezioniamo di nuovo questo col secondo del mouse andiamo in questo punto e diciamo disegna tubazione e portiamo questa tubazione la portiamo fino da questa parte andiamo a controllare in 3D se quello che abbiamo fatto è corretto sembrerebbe di sì vedete io non ho fatto altro che prendere il tubo dall'esterno portarlo qui salirlo e allungarlo in questa posizione a questo punto possiamo già unire alcuni elementi a questo tubo allora come facciamo selezioniamo per esempio questo lavabo e gli diciamo collega acqua fredda sanitaria ok e selezioniamo questo tubo ecco che abbiamo creato il primo collegamento ripetiamo la stessa operazione per il secondo lavandino acqua fredda sanitaria ecco ci siamo ripetiamo la stessa operazione per il terzo per il terzo sanitario e c'è un piccolo problema annulliamo perché lui mi ha saltato allora se ne è andato direttamente qua a me questo non mi va e allora facciamo ctrl z e facciamo prima per l'ultimo davantino acqua fredda sanitaria e poi lo facciamo per questo qua collega acqua fredda sanitaria lo colleghiamo in questo punto allora qua dobbiamo però eliminare non ci serve questo elemento che è continuo per cui andiamo a togliere questo elemento selezioniamo selezioniamo il raccordo e gli diciamo meno da questa parte ecco che abbiamo chiuso il nostro il nostro elemento l'abbiamo chiuso per questa per questa parte colleghiamo adesso lo scaldabagno all'acqua fredda sanitaria allora selezioniamo lo scaldabagno diciamo collega acqua fredda sanitaria e andiamo a toccare questa parte del tubo ecco che abbiamo creato il collegamento anche per lo scaldabagno vediamo se è tutto a posto sembrerebbe di sì ok adesso dobbiamo fare una ulteriore operazione dobbiamo andare se andiamo in pianta dobbiamo andare a collegare a creare una un elemento di tubo che vada all'interno da questa parte e da questa parte per poter servire con l'acqua fredda sanitaria anche i diciamo gli elementi che stanno all'interno dei due pc allora selezioniamo questo tubo diciamo crea simile e andiamo da qua andiamo a portarlo fino al pc anche qui è sempre meglio fare un controllo in 3d per vedere se è tutto corretto sembrerebbe quasi di sì allora torniamo qui e andiamo a dire io voglio collegare questo elemento collega sempre acqua fredda sanitaria a questo elemento così come il bidet collega acqua fredda sanitaria a questo elemento e infine il pc collega sanitaria a questo elemento c'è qualcosa che non va andiamo a vedere nel 3d cosa è successo sì allora è successa la stessa cosa di prima per cui conviene iniziare allora annulliamo annulliamo perfetto allora iniziamo dal pc collega acqua fredda sanitaria a questo perfetto poi qua adesso togliamo come abbiamo fatto prima il condotto a t lo facciamo diventare un condotto a l allora bidet stessa cosa acqua fredda sanitaria colleghiamo con questo lavandino collega acqua fredda sanitaria la colleghiamo con questo va bene qui andiamo a prima dobbiamo togliere il tappo per cui automaticamente ci mette il tappo e poi una volta selezionato qua basta togliere il ecco fatto benissimo e stessa operazione la possiamo fare dalla dalla parte simmetrica andiamo in pianta sia lo stesso lavoro che abbiamo fatto da questa parte lo possiamo fare da questa parte i passaggi sono uguali per cui io non me li faccio rivedere uno a uno per motivi di tempo e abbiamo creato sia l'accesso dell'acqua sanitaria sia il servizio a tutti gli elementi presenti dell'acqua fredda facciamo adesso un controllo se ci sono connessioni aperte in questa parte di impianto che abbiamo realizzato andiamo nella scheda analizza nel roaming sistema andiamo alla scheda analizza con questo comando mostra disconnessioni noi gli diciamo sulle tubazioni ok ecco tutti gli avvisi che noi vediamo riguardano le altre connessioni quella dell'acqua calda e le acque refle ma se noi guardiamo attentamente l'impianto che abbiamo realizzato non presenta messaggi di parte aperta lo presenta solo qua sotto perché qui sotto è aperto il tubo in quanto è l'ingresso dell'acqua noi comunque possiamo sempre selezionare questo elemento selezionare questo elemento e andare a chiudere questa parte ecco noi abbiamo messo il tappo avendo messo il tappo non abbiamo più diciamo in questa questa rete di acqua fredda non abbiamo più nessuna parte aperta se poi questi elementi ci danno fastidio possiamo richiuderli e tornare alla situazione iniziale realizziamo adesso la tubazione dell'acqua calda allora per fare questo andiamo nella sezione numero 2 sezione numero 2 e diciamo realizziamo un tubo di acqua calda di 15 di 15 millimetri per cui andiamo in sistemi tubi andiamo a correggere qua acqua calda sanitaria e andiamo a scegliere una tubazione di 15 millimetri perfetto allora a questo punto dobbiamo creare un tubo lo creiamo in una parte leggermente più bassa rispetto a quella dell'acqua fredda andiamo fino a qua ok andiamo in pianta per verificare la posizione di questo tubo perché noi dobbiamo spostarlo questo tubo altrimenti poi ci saranno delle intersezioni fra una tubazione e l'altra allora siccome noi non lo vediamo temporaneamente nascondiamo con gli occhiali nascondiamo il tubo dell'acqua fredda nascondi l'elemento e dobbiamo semplicemente andare a tirare giù questa tubazione ok riportiamo rendiamo visibile nuovamente il tubo dell'acqua fredda abbiamo acqua fredda e acqua calda va bene allora adesso non dobbiamo fare altro che collegare i vari rubinetti all'acqua calda lo possiamo fare in 2D ma lo facciamo in 3D che diciamo probabilmente riusciamo meglio allora selezioniamo l'elemento collega acqua calda sanitaria lo colleghiamo a questo elemento non ci sono intersezioni tra i tubi mi pare di capire che funziona tutto bene al momento qua funziona va bene stessa operazione la facciamo per il secondo lavabo collega acqua calda andiamo a collegarlo con no nello stesso problema di prima iniziamo da quello estremo perché la legge di stradamento funziona che lui va a cercare l'estremo allora selezioniamo questo qua collega acqua calda da questa parte perfetto a questo punto dovrebbe funzionare tutto collega acqua calda a questo e abbiamo l'ultimo collega acqua calda a questo tubo ci resta da collegare il lo scaldapagno e poi creare altri due piccoli rami per collegare anche questi due lavabbi colleghiamo adesso lo scaldapagno alla rete di acqua calda allora selezioniamo lo scaldapagno e diciamo collega acqua calda sanitaria la colleghiamo a questo tubo però qui abbiamo un problema c'è uno spazio che non è sufficiente perché si incontrano due si sovrappongono diciamo due elementi di snodo allora cosa possiamo fare possiamo andare nella impiantina e possiamo andare a spostare leggermente lo scaldabagno a sinistra in modo tale che il suo il suo connettore non vada diciamo a colpire l'altro connettore allora selezioniamo lo scaldabagno e con le freccette lo portiamo un po' a sinistra stando attenti anche a non creare problemi in questa zona ritorniamo in 3D e questo punto lo colleghiamo acqua calda sanitaria col nostro tubo ecco perfetto siamo riusciti senza grossi problemi a realizzare questa nostra situazione facciamo anche qui un controllo un controllo diciamo di tubi aperti allora andiamo in analizza tubazione ecco abbiamo dobbiamo chiudere questa parte che c'è qua di tubazione dall'altra parte mi pare che non ci siano problemi ok allora andiamo qui selezioniamo questa parte crunch selezioniamo questo e dovremmo incontrare il meno da qualche parte lo togliamo ecco che abbiamo risolto anche questo problema togliamo questi triangolini che quando non servono sono fastidiosi e passiamo a realizzare due pezzi di condotta per servire di acqua calda anche questi due lavabbi andiamo in pianta andiamo in pianta allora cosa dobbiamo fare dobbiamo portare questo tubo creare un crea simile e portare questo tubo vediamo da qua lo portiamo fino a qua dopodiché selezioniamo il lavabo collega acqua calda sanitaria a questo perfetto stessa cosa da questa parte andiamo a selezionare questo tubo andiamo a dire crea simile e lo colleghiamo da qua qua dobbiamo andare un poco più avanti ecco perché il caldo è qui selezioniamo adesso il lavabo e lo colleghiamo a questo tubo perfetto dovremmo esserci andiamo a vedere in 3D vediamo se ci sono dei bisticci fra i tubi delle 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 parti in cui sembra di no sembra tutto in regola va bene non ci resta adesso che l'ultima parte quella delle acque reflue allora per le acque reflue per cominciare a progettare lo scarico delle acque reflue andiamo in questa sezione vai a vista allora noi dobbiamo creare chiaramente un tubo che va da questa parte fino al tombino esterno togliamo i riquadri così abbiamo la vista complessiva appunto stavo dicendo dobbiamo creare un tubo che va da questo punto a questo punto con una pendenza di almeno un 1% allora andiamo in sistemi andiamo in sistemi tubazione lo spessore andiamo a 80 perché lo scarico del gabinetto è 80 non acqua calda ma acqua reflue e andiamo a inserire una pendenza dell'1% dobbiamo prima attivare questo pulsante e poi attivare questo pulsante e scegliere una pendenza dell'1% allora mettiamo ovviamente lo mettiamo sotto il il solaio andiamo noi andiamo dritti ma lui scende andiamo fino al tombino mi è venuto un pochettino basso per cui con le freccettine lo saliamo ecco qua allora torniamo in 3D e cominciamo a collegare il VC lo colleghiamo a questo elemento stessa cosa per il bidet collega a questo elemento stessa cosa per l'altro VC collega a questo elemento stessa cosa per il bidet collega a questo elemento ok prima parte fatta in questo senso adesso dobbiamo scaricare i sei i sei lavabbi allora ci sono vari modi per fare questo ma noi andiamo a realizzare questo questo scarico utilizzando la sezione questa orizzontale vai a vista allora realizziamo un tubo di scarico all'interno del muro e al di sotto dei quattro lavandini dell'antibagno allora scegliamo tubazione tubazione è da 40 perché qui lo scarico è da 40 e togliamo la pendenza che qui non ci serve per adesso e facciamo questa tubazione la facciamo d'acqua fino a qua ok torniamo in 3D e cominciamo a collegare il primo lavabbo con questo elemento il secondo lavabbo è acqua e reflue con questo elemento vediamo non si vede bene qui non si è creato il collegamento allora abbiamo detto questo elemento lo colleghiamo con questo elemento perfetto lo stesso questo elemento lo colleghiamo con questo elemento e adesso c'è l'ultimo giriamo un po' con la prospettiva la sonometria anzi allora colleghiamo questo elemento con lo scarico che è questo qua allora abbiamo collegato questi vari elementi premetto comunque che noi questo questo qui lo possiamo scaricare anche direttamente in questa posizione non possiamo fare il contrario perché se facciamo il contrario i due elementi vanno a finire nello stesso aggiunzione allora sfruttiamo un'altra metodologia per ottenere questo risultato allora per unire questi scarichi al tubo che ci sta sotto andiamo nella sezione numero 3 sezione numero 3 andiamo a selezionare andiamo a selezionare questo tubo crea simile e andiamo a unire questa parte la andiamo a unire con la parte sottostante e andiamo in 3D dobbiamo solo sistemare questo elemento perché questa parte non ci serve più possiamo cancellarla e qui col meno andiamo a chiudere esattamente questa parte qui ci resta adesso l'unica parte che ci resta adesso è l'unione di questo lavabo con la rete di scarico allora per fare l'ultimo collegamento di questo lavabo alla rete di scarico andiamo a selezionare questo lavabo e gli diciamo collegati a questa parte ecco che il nostro impianto risulta finito andiamo a fare un controllo dell'apertura dei tubi e andiamo in analizza tubazione ok allora abbiamo questa parte che anche qua sappiamo insomma che questo ce l'aspettiamo poi abbiamo qui abbiamo dimenticato un collegamento e questo qua è il collegamento del gas che per adesso non 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 trattiamo questa qui sarebbe l'acqua calda allora andiamo qui collega l'acqua calda con questa parte ecco che abbiamo risolto il problema le uniche due gli unici due tubi aperti sono quello del gas e quello dello scarico possiamo mettere un tappo per adesso oppure immaginiamo che qua ci sia il collegamento alla fogna benissimo l'impianto idrico è concluso